La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e incendio doloso nei confronti di Mirko Gian Caterino, 40 anni, pregiudicato, accusato di aver ucciso Gabriele Giammarino, 80enne ex maresciallo dell'aeronautica. L'anziano era stato trovato morto il 13 settembre del 2015 nella sua abitazione di via Bernardo Castiglione a Penne. La Suprema Corte si è espressa dopo il ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila presentato dai legali del Quarantene, gli avvocati Tiziana Cacciatore e Melania Navelli. Anche in primo grado il verdetto era stato di condanna all'ergastolo. Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha sia confermato la pena detentiva che il risarcimento del danno alle parti civili. 170 mila euro alla sorella della vittima Pasqualina Giammarino e 100 mila euro ciascuno ai due nipoti dell'ex maresciallo, tutti rappresentati dall'avvocato Federico Squartecchia. Ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri della Compagnia di Penne che subito dopo il delitto erano riusciti a rintracciare, ad arrestare Gian Caterino e i militari del nucleo investigativo di Pescara.